Hanno presso il via da questa sera le ronde di cittadini in via di Porta Romana a Gubbio. Ogni sera da qui in avanti almeno uno dei 30 che hanno aderito all'iniziativa perlustrerà un ideale quadrilatero che dalle parallele a monte di via di Porta Romana, ovvero via Lodolfo e via Cervini, scende verso valle lungo via Devoto, via Risorgimento e risale lungo via del Cavarello. Una decisione presa dopo l'ennesimo fatto criminoso accaduto giovedì scorso quando i ladri sono tornati a colpire su una delle ville sopra via di Porta Romana e dopo gli strani incontri segnalati dai cittadini nelle ultime serate. La villa colpita è stata visitata dai ladri intorno alle 19 in orario preserale quando in casa c'era il proprietario che tuttavia non si è accorto di nulla visto che i ladri sono entrati da una terrazza su un piano dove in quel momento non c'era nessuno. Solo quando ha sentito dei rumori strani attivando il sistema di allarme si è reso conto che era ormai troppo tardi. I malfattori erano in fuga sul giardino portandosi appresso la cassaforte. All'interno due orologi di pregio, frutto di regali ma non gioielli o soldi. La tecnica è sempre la stessa. Viene forata la finestra con strumenti di precisione tanto quanto basta per introdurre un ferro con il quale aprire. Difficile sentirli, sono silenziosissimi. Il fatto ha innalzato l'attenzione di guardia dei residenti che proprio in una di queste sere hanno individuato un'auto scura a sostare in una delle vie in questione. All'interno una signora, poco distante una ragazza, che gironzolava in zona con fare sospetto. Avvicinate dai residenti hanno detto di essere lì in attesa del marito della più giovane, versione che non ha convinto affatto gli abitanti, che hanno fotografato l'auto e avvertito i carabinieri. Al momento si attendono riscontri dalle forze dell'ordine ma nel frattempo i cittadini si organizzano con un gruppo WhatsApp e con ronde. Qualcosa del genere sta accadendo anche a San Pellegrino e Boschetto, Gaifana di Gualdo Tadino, dove i ladri hanno colpito negli ultimi giorni. A Gaifana la ronda conta al momento 20 volontari. L'organizzazione improprio dei cittadini in linea generale non suscita l'entusiasmo delle forze dell'ordine perché potrebbe intralciare la loro attività di indagine. La raccomandazione tuttavia resta quella della prudenza. I cittadini dal canto loro, laddove percepiscono insicurezza, cercano di riconquistarla come possono davanti ad una carenza delle istituzioni. Alla fine non è l'oggetto che si ruba il problema vero, ma la perduta serenità. L'idea di potersi imbattere in un malintenzionato, nella proprietà di famiglia in ore diurne, magari con a casa i propri figli.